eravamo partite molto bene abbiamo fatto i primi 25 minuti con grande autorità e personalità poi abbiamo subito questi due rigori uno mi avviso netto l'altro magari un po' a dubbio e quando poi Isa li ha parati tutti e due alla fine del primo tempo ha detto alle ragazze che questo era un segnale che la partita dovevamo vincerla e potevamo vincerla di entrare in campo con la personalità che abbiamo avuto i primi 25 minuti così non è stato perché abbiamo concesso i primi 20 minuti a loro poi piano piano siamo uscite e da lì abbiamo costruito questa bellazione dove siamo andati in vantaggio e da lì poi logicamente abbiamo sofferto nelle ultime cinque partite credo che cresca era un po una scommessa per noi pensiamo di aver vinto una scommessa importante e ad oggi credo che sia lo dico io perché la vedo tutti i giorni il miglior portiere della serie a quindi per noi è un punto di riferimento importante lo ha dimostrato oggi ma lo sto dimostrando ormai da cinque sei partite con le sue le sue parate le giocate con i piedi dove è migliorato tantissimo dove dove era molto carente e quindi è solo col tempo che si ottengono dei risultati questa è una squadra che ha cambiato dodici giocatrici di cui sette ripeto sette titolari con lavoro e anche con le giocatrici che abbiamo recuperato abbiamo anche le possibilità la possibilità di cambiare modulo e soprattutto cambiare delle interpreti vedi oggi tomaselli che entrata ha fatto gol e i think it was a great game i think we we could go a little bit more strong in some scenes but i think it was a great effort from the whole team and i'm happy that i could help today a little bit more i mean i'm happy that i could save them because i didn't save the penalty for quite some time actually um and yeah that we won after it is even greater than i expected it to be so i am really happy for that yeah i'm happy that the mister thinks that i do well now and yeah i'm just happy for that sono felice di victoria occhi partito sul sol ma 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 ma